Pasqua 2022 è una Pasqua totalmente diversa da quella del 2020. 2020 era un anno in cui avevamo iniziato da poco, perché noi qua il primo abalato l'abbiamo avuto il 4 marzo 2020 e noi non sapevamo bene quello che avremmo vissuto. Sono stati due anni difficili, per certi versi inimmaginabili, per tutti gli operatori sanitari. La fotografia che si scatta all'interno del reparto di terapia intensiva e reanimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo in questa Pasqua 2022 è profondamente diversa rispetto a due anni fa. Dopo due anni di esperienza credo che tutto il sistema sanitario abbia scritto una pagina di storia, perché guardandoci indietro spesso mi chiedo anche come abbiamo fatto. Nelle ultime ore la media dell'occupazione dei posti letto in bolla Covid per quello che riguarda l'ospedale San Donato di Arezzo è di circa 25 pazienti e 3 in terapia intensiva. Un anno fa erano 120 in bolla Covid e oltre 20 in terapia intensiva. È una Pasqua diversa, è una Pasqua diversa perché come per un po' tutte le cose ci si abitua e quindi purtroppo, per fortuna, ci siamo abituati anche alla pandemia, ci siamo abituati al Covid. È un virus che cambia. L'ultima variante è stata molto contagiosa anche tra gli operatori sanitari, ma l'aggressività è diminuita e chi finisce in terapia intensiva ha gravi patologie pregresse. I medici però non se la sentono ancora di declassare il Covid a semplice influenza. Non me la sento assolutamente di declassificarla con tutto quello che abbiamo passato e patito, assolutamente non me la sento di dire questo. Me lo auguro, mi auguro che possa diventarlo, però questa responsabilità non me la prendo. Normalmente tra Covid e non Covid abbiamo 18-20 malati ricoverati. Se i malati complessivamente dovessero arrivare, 30-40, come sono stati in passato, questa cosa mi fa paura in senso proattivo, nel senso di dire non abbasso la guardia, stiamo attenti, giorno per giorno decidiamo qual è la strategia migliore, però quando ci penso tutti i sentimenti negativi di fatica, di paura, di difficoltà logistiche si riaffacciano e quando uno ha sofferto, tra virgolette, perché sicuramente soprattutto in questo momento nel mondo ci sono persone che soffrono più di noi, devo dire che questa cosa un po' di ansia me la metti. Attualmente non c'è nulla che ci fa per deporre che possa succedere una cosa del genere, però, ripeto, l'attenzione sia da parte nostra ma da parte di tutti non va sicuramente abbassata e bisogna essere sempre molto attenti, perché il Covid esiste sempre.